Buonasera, Questa mattina, in via Radici in Monte, poco prima del ponte della Veggia, uno scooter si è scontrato con una vettura. Il centauro è stato sbalzato giù dal mezzo, riportando un trauma cranico e altre ferite, fortunatamente non gravi, per le quali è stato trasportato all'ospedale di Baggiovara. Sul posto, la polizia municipale, i carabinieri e i VOS. È morto oggi, a 70 anni, il sassolese Pierino Quartieri. Lascia la moglie, Marilena, e due figli. Questa sera, alle 19.30, il rosario è presso le camere ardenti del nuovo ospedale di Sassuolo. Domani, alle 14.45, il funerale in San Giorgio, poi la tumulazione al cimitero nuovo urbano. Si prospetta un anno da record per il liceo scientifico Formiggini, che ha raccolto uno straordinario numero di iscritti per il nuovo anno scolastico ormai alle porte. Ecco il commento e le anticipazioni del preside Giulio Menetti. Professor Menetti, allora, un nuovo anno che si apre all'insegna del, chiamiamolo così, record, perché non c'è ancora il dato definitivo, ma oltre 80 iscritti in più e forse si supera quota 1.200. Sì, noi da quest'anno dovremmo passare in quella che si chiama classe A, che è riservata alle scuole che hanno superato i 1.200 iscritti e naturalmente che hanno adottato progetti importanti, indirizzi importanti, eccetera. La forza del nostro liceo, a mio avviso, è legata al fatto che noi abbiamo cinque indirizzi, classico, scientifico, linguistico, scienza umana e socio-economico e tutte le competenze di tutti gli insegnanti si fondano e sono a disposizione di tutti gli studenti in senso trasversale. Quindi la formazione degli studenti è una formazione completa e quindi, ad esempio, i ragazzi del liceo classico possono partecipare ai progetti sia di lingue sia di economia sul territorio allo stesso modo di quelli dell'indirizzo economico. Quindi la forza sta proprio nell'unione e nella fusione delle competenze. E tra questi indirizzi che lei ha citato possiamo mettere l'accento soprattutto sul classico che addirittura ha sbancato le iscrizioni rispetto alla nostra classe? Allora, il liceo classico incontra tendenza con il dato nazionale a più che raddoppiato le iscrizioni. Il motivo è proprio quello che ho accennato prima perché è un classico dove si svolgono i programmi ministeriali ma dove si partecipa anche a importantissimi progetti sul territorio e progetti internazionali. Il liceo Formigini è il liceo dei progetti. Da sempre si è occupato di importanti attività, ripeto, sul territorio e all'estero, attività sulla legalità, giochi della chimica, della matematica. Noi inizieremo il 16 settembre con l'orario completo e definitivo, quindi dalle 8 all'1. Soltanto le classi prime entreranno un'ora dopo e parteciperanno a quello che si chiama il progetto accoglienza assieme al preside, ai collaboratori e agli insegnanti per avere un inserimento favorevole all'interno del nostro istituto. Però l'orario sarà definitivo dal primo giorno, non più due ore, tre ore, quattro ore con l'orario provvisorio ma all'orario completo da subito. Come anticipato nel nostro Tg di qualche giorno fa, Rosanna Rossi ha lasciato l'incarico di preside dell'Essa Morante, trasferendosi alla scuola di Montecchio per motivi familiari. Al suo posto, come comunicato in mattinata, subentra la professoressa Rita Turrini, attuale dirigente scolastico del terzo comprensivo. Ancora in ambito scolastico, gli operai di SGP sono all'opera in questi giorni per la manutenzione del verde negli istituti sassolesi, in modo da renderli idonei ad accogliere bambini e ragazzi nella loro nuova avventura scolastica. I lavori di questa mattina hanno interessato la scuola dell'infanzia Centro Storico. Passiamo allo sport. Doppio allenamento per il sassuolo calcio, impegnato stamattina con i test MAPEI al Ferrari di Fiorano, mentre nel pomeriggio la squadra si è spostata al sassi di Spezzano. Prima della seduta ha parlato Emanuele Terranova, che è tornato sulla sconfitta di Torino, che secondo il difensore servirà da lezione per il futuro. Intanto è stato ormai concluso l'arrivo di Ezechiel Schelotto, centrocampista dell'Inter. Buone possibilità di approdo in Emilia anche per Biarnaso, mezzala del Pescara. Per oggi è tutto, arrivederci a domani. Grazie a tutti.